Le aziende ripartono e i negozi riaprono. Le strade si riempiono di persone, auto e camion, ma negli ospedali del Veneto continua senza tregua la lotta contro il coronavirus. I nostri eroi in camice bianco combattono ogni giorno una battaglia senza quartiere contro il nemico silenzioso e possono farlo grazie anche alla vostra generosità, che ha permesso a Helios Onlus di dotare il nostro ospedale di apparecchiatura all'avanguardia, in grado di salvare molte vite. Avete donato a Helios Onlus 495.720 euro e 99 centesimi. L'obiettivo è a portata di mano, doniamo tutti assieme. Uniti possiamo farcela. E ricordate, anche l'equivalente di 10 caffè può aiutare Helios a portare a San Bassiano strumenti per salvare altre vite.